Una buona giornata cari amici, anzi una stratosferica giornata perché siamo in finale, nove anni dopo torniamo a giocarci la partita che assegna un campionato europeo dopo aver eliminato proprio la squadra che ci ha negato l'ultimo nel 2012, sembra un'era fa, era un'altra Italia, era un'altra Spagna, era veramente un altro mondo e adesso ci siamo presi questa finale di cuore, di sofferenza dopo una partita in cui forse per la prima volta in quest'era Mancini abbiamo visto un avversario superiore sul campo a livello di gioco ma non è bastato per passarci sopra, anzi l'Italia è andata vicino a vincere la partita già nei 90 minuti perché poi ci hanno ripresi a dieci dalla fine, anche questo è un passo in avanti fatto sul piano psicologico, il fatto di ritrovarsi rimontati una situazione non consueta per gli azzurri e riuscire comunque a resistere nelle grandi difficoltà di questa partita, una partita da rivivere, da ripercorrere, lunghissima, durissima che ha tolto obiettivamente delle energie che non saranno molto semplici da recuperare in questi quattro giorni di preparazione alla gran finale di domenica a Wembley, però guardatevi dico oggi è il giorno veramente dell'esaltazione, della soddisfazione perché sono molto contento di aver capito, intravisto subito il potenziale di questa nazionale, se voi andate a rivedere i video anche più vecchi del canale immediatamente Mancini con l'entusiasmo, con la convinzione di poter ritirare su in tempi anche molto veloci, la nazionale dall'abisso più profondo della propria storia aveva in qualche modo contagiato, lo ha fatto vedere sul campo, però pensare che al primo grande appuntamento a questo europeo, che io credo ci abbia fatto anche bene dal punto di vista della maturazione che sia stato rinviato di un anno, però al primo grande appuntamento saremmo arrivati fin lì, saremmo arrivati fino in fondo, questo era al di là, come si suol dire di ogni più rosea previsione, e invece l'Italia questa finale se l'è presa con una semifinale in cui obiettivamente sul piano del gioco abbiamo sofferto perché la Spagna ha fatto la partita, però se l'è presa ancora una volta con pieni meriti, se l'è presa con tutte le proprie caratteristiche e se l'è presa facendo quello che questa nazionale fa dalla prima partita, ovvero aumentare il proprio valore, la propria convinzione e di conseguenza la propria dimensione, partita dopo partita, prova dopo prova, abbiamo passato un girone qualificatorio perfetto, che però era facile a sentire un pensiero non generale ma abbastanza comune, siamo passati attraverso due edizioni della Nations League in cui prima abbiamo fatto la Tara e poi abbiamo conquistato la Final Four, abbiamo iniziato benissimo le qualificazioni al Mondiale e abbiamo fatto, increscendo anche sul piano della difficoltà, questo europeo, perché comunque il girone era un girone affrontabile, un girone di rodaggio, ma superare così in carrozza e senza una sbavatura avversari come Turchia, la Svizzera, che poi ha dimostrato il proprio valore e il Galles, non era una cosa scontata, era tutt'altro che scontato riuscire a fare quel passo anche mentale di affrontare la gara secca contro l'Austria, squadra evoluta, squadra tosta sul piano fisico, squadra fatta di giocatori con uno status significativo, giocatori di Bundesliga e l'abbiamo fatto, anche lì soffrendo un po', però non perdendo mai la barra, abbiamo cominciato ad affrontare i Colossi, il Belgio l'abbiamo battuto su tutta la linea, la Spagna siamo riusciti a superarla, a non permetterle di travolgerci e adesso vedremo chi avremo di fronte, se la grande favola della Danimarca o la supercorazzata favorita padrona di casa dell'Inghilterra, in ogni caso, sarà un percorso estremamente emblematico a questo punto, il percorso ce lo godiamo, come vi dico ormai da giorni il risultato, comunque lo abbiamo portato a casa, adesso però, la Coppa è lì, è lì davanti a noi e allora proviamo davvero ad andarcela a prendere in quella che sarà una domenica sera veramente storica, però adesso parliamo di quello che è stato il martedì sera, di quella che è stata la serata di passione di ieri e di come l'Italia è arrivata a questo successo, a questa semifinale vinta, a questa sua quarta finale europea della storia. O, che la partita sarebbe stata differente da tutte le altre, insomma, ce lo potevamo immaginare, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, abbiamo provato a disegnarla e credo che sul campo inizialmente si sia visto esattamente lo scenario paventato, ovvero una Spagna che si è presa il pallone e ha cominciato a fare la partita, prima situazione inusuale per i nostri azzurri. Le scelte di formazione di Mancini sono state quelle previste, quindi con Nemerson Palmieri a prendere il posto, lasciato dolorosamente da Spinazzola, dolorosamente in tutti i sensi e per il resto. Il terzetto dei titolarissimi in mezzo al campo è il tridente di questa seconda fase, con Immobile confermato nonostante le polemiche e credo che Immobile delle risposte le abbia date in qualche modo, con Insigne leader tecnico un po' in difficoltà forse nel recitare la sua parte di giocatore che deve scompaginare, che deve far saltare il banco anche per le dinamiche imposte alla partita dalla Spagna e con chiesa esterno destro, esterno destro di elettricità, esterno destro di gamba in grado di dare una mano su tutta la fascia, su tutta la lunghezza del campo. La gattata a livello di formazione l'ha fatta Luis Enrique e lo dicevo io stamattina, attenzione perché Luis Enrique può sorprendere sempre. Ha sorpreso nella misura in cui ha deciso di giocare senza il centravanti. Ha cambiato anche dietro mettendo Eric Garcia al posto di Pau Torres, io credo non tanto per non giocare con i due mancini quanto per mettere il centrale più veloce a sua disposizione, perché la Spagna era quella che ci aspettavamo, ovvero una squadra molto corta, una squadra con la difesa alta, una squadra con il pallone, una squadra che poteva avere il proprio punto debole negli spazi lasciati una volta persa palla per eventuali verticalizzazioni repentine e allora Luis Enrique ha piazzato il centrale veloce per cercare di avere un giocatore in grado di garantirgli anche recupero. In mezzo al campo soliti tre, tre maestri veri, Busquets, Pedri, Pedri, Pedri. A 18 anni, Pedri, 18 anni e mezzo per la verità, Pedri ha giocato una semifinale dell'europeo senza sbagliare un singolo passaggio. Questo ragazzo è un predestinato. Luis Enrique dopo la partita addirittura ha detto che in questo europeo il canario del Barcellona ha fatto cose che neanche Don Andrè Siniesta faceva alla sua età, sono paragoni che insomma non so se siano eccessivi ma sicuramente non sono il centro della questione. Il centro della questione è il football di questo ragazzo, un 2002, destinato a rinverdire la tradizione d'oro dei grandi centrocampisti spagnoli e coche a dare sostanza, a dare regia, a dare ritmo, a dare anche intensità. Come dicevo la gattata è stata la scelta di questo tridente senza il punto di riferimento, panchina permorata, panchina anche pesante visto l'europeo che c'era stato, la presenza anche decisamente scompaginata degli elementi. Non tanto per il ruolo di Dani Olmo falso 9, Dani Olmo non è un centramanti, Dani Olmo è un esterno d'attacco volendo un trequartista, è un giocatore che ama agire fra le linee e fondamentalmente è quello che ha fatto. La cosa abbastanza particolare è stata mettere Oiar Sabal sulla destra e Ferran Torre sulla sinistra, quindi esterni a piede invertito, quando normalmente Ferran Torre sa nella fascia destra il suo habitat preferito e Oiar Sabal anche nella Real Sociedad parte volentierissimo da sinistra. Poi è un giocatore completo, è un giocatore che può fare tutti i ruoli d'attacco. Luis Enrique l'ha preparata così per non dare punti di riferimento, per far abbassare Dani Olmo con il compito di dare un occhio a Giorginio ma anche di farsi trovare pronto alle spalle del motore del centrocampo azzurro e diciamo che la Spagna l'ha fatto bene anche se l'approccio alla partita dell'Italia era stato anche abbastanza aggressivo, abbastanza convinto, c'era stata quell'azione con il fuorigioco di Barella che ha colpito subito un palo, c'era stata anche quell'occasione in cui Barella non è riuscito a tirare a porta sbarnita dopo una fuga di Emerson Palmieri, nella situazione che fin da subito si è configurata come l'occasione per noi, ovvero quella di recuperare palla quando possibile e di verticalizzarla alle spalle della difesa spagnola. Per il resto però poi la partita si è sviluppata anche in questo caso sul copione atteso perché la Spagna, che per me è una squadra con un grandissimo futuro davanti, è ancora incompleta oggi, è una grande squadra e lo ha dimostrato anche in questa semifinale. Però la Spagna è una squadra quasi ingiocabile nei 70 metri centrali del campo ovvero tolte le due aree di rigore perché quei tre centrocampisti di fronte a un centrocampo di grande status come quello italiano hanno dimostrato che niente quando si scende in campo il pallone è loro e tu puoi avere Giorginio Verratti e Varella ma il pallone è loro. Buschez è un equilibratore straordinario, Pedri ho appena ho appena parlato di lui e faccio fatica a trovare aggettivi nuovi perché mi ha tolti tutti in questa sua prima stagione tra Barcellona e Nazionale Maggiore con più di 50 partite giocate nel Barca, una titolarità inammovibile nella roca, anche lo stesso Coque ha girato bene. Spagna che veramente ti intontisce con il suo possesso palla che non è il tiki-taka di memoria guardiolista, è il gioco di Luis Enrique, un gioco assolutamente di palleggio ma un gioco non ornamentale, non un gioco orizzontale, è un gioco che guarda molto alle linee dritte, è un gioco quasi diretto, è un gioco furbo, si sono mossi bene lì, ci hanno creato dei problemi e poi secondo me la difesa dell'Italia ha fatto un'ottima partita, l'unica sbavatura è stata veramente sul gol di Morata, ma ci arriviamo. Perché vi dico che la Spagna nei 70 metri è una squadra già completa, già pronta ad essere una delle più forti del mondo, mentre nelle due arredigore non lo è e si è visto, si è visto nelle occasioni che comunque l'Italia è riuscita a prendersi, non tantissime ma occasioni significative proprio con questo tipo di atteggiamento e di ricerca in quelle che invece la Spagna ha sbagliato. Da sottolineare ancora una volta l'importanza di Donnarumma per i calci di rigore, ma ci arriviamo fra un po', ma per la parata che ha fatto in partita su Dani Olmo. Dani Olmo è un giocatore per me veramente di altissimo livello. Poi ha sbagliato il rigore, lo ha tirato alto quando poteva indirizzare la serie dopo il primo errore di Locatelli, anche in quell'occasione in cui ha parato Donnarumma, poteva avere forse un filo più di Killer Instinct. È un giocatore magari non da cifre strabilianti o quantomeno non ancora, ma è un giocatore di una proprietà tecnica, di un valore proprio calcistico sublime. Le due occasioni più grandi ce le ha avute Oyer Sabal. All'inizio, quando si è smarcato molto bene alla ricerca della profondità e non è riuscito a controllare, e poi anche quando non ci è arrivato di testa, abbiamo rischiato di andare sotto e invece siamo andati sopra. Siamo andati sopra perché siamo riusciti anche ad essere umili all'interno di questa partita, a capire che non c'era la possibilità di fare il gioco che ci ha portato fino a lì. Allora dovevamo mettere qualcosa in più, trovare, forse se vogliamo romanzarla un filo, nella nostra tradizione le armi per gettare, come si suol dire, il cuore oltre l'ostacolo. E avete visto il gol che ha fatto l'Italia. È stato il gol confezionato dal tridente, la visione di Insigne che dà quella palla incrociata, lo spirito di Immobile. In una partita in cui ha fatto meglio, indubbiamente, rispetto alla gara col Belgio, poi ci saranno ancora discussioni, ma questo è Immobile, questo è il nostro attaccante e per me è il 9 titolare di questa nazionale. E poi veramente il voltaggio di Federico Chiesa, che arriva come al solito sul pallone da satanato. Aveva usato dopo il gol segnato contro l'Austria il concetto della disperazione positiva di Federico Chiesa. Chiesa e Barella sono i due giocatori che nell'ultimo campionato di Serie A hanno mostrato il più grande miglioramento e sono due giocatori importanti di questa nazionale. Il miglioramento di Chiesa sta nella mentalità, perché rispetto a Firenze ha assorbito immediatamente il salto in alto, diventando un giocatore decisivo per la Juventus e un giocatore importantissimo per la nazionale. Parlo di mentalità anche nell'accettare il ruolo inizialmente secondario come alternativa a Berardi, un discorso che vi ho già fatto più volte. Berardi era l'uomo giusto da schierare nelle prime partite, perché era un'Italia che doveva impiantare e imporre il proprio gioco. Nelle gare contro i Colossi l'uomo è Chiesa, perché è uomo di intensità, è uomo di ripiegamento, è uomo di strappo, è uomo di disperazione positiva, come arriva Chiesa su ogni pallone in area di rigore, da affamato. E poi c'è la tecnica e poi c'è la capacità di risolvere le situazioni, perché il tiro all'angolo è un'altra stoccata da giocatori di altissimo livello, così come l'era stata quella contro l'Austria. In situazioni che poi lui magari fa sembrare anche buone, anche normali, tra virgolette, ma che in realtà sono situazioni di grande pressione, con poco spazio, dove devi infilare quel pertugio di forza contro l'Austria, di stile contro la Spagna. Lì, in quella fase di partita, poteva nascere il rimpianto, perché lì l'Italia il colpo lo ha dato alla Spagna. Abbiamo avuto anche la palla del 2-0, con Berardi che è entrato veramente molto bene in partita. La gestione dei cambi di Mancini è stata una gestione complicata per una squadra che doveva, per forza di cose, rimanere bassa, ma non a serragliarsi, perché altrimenti sarebbe stato impossibile sostenere la pressione degli spagnoli, con una squadra che tradiva stanchezza. Per una partita di continua rincorsa, per una partita di continua attenzione, per una partita veramente dispendiosa, Mancini ha cambiato il centrocampo come doveva cambiarlo, Mancini ha cambiato l'attacco come doveva cambiarlo, inizialmente giocando con il falso 9, poi mettendo Velotti che si è spolmonato, come al solito, e Berardi è entrato molto bene. Altra dimostrazione individuale data all'interno di questa serata, e di come davvero non sia retorica definire l'Italia un gruppo di 26 titolari. Perché Berardi poteva accusare un filo di flessione dopo il protagonismo dell'inizio e l'inversione delle gerarchie nelle partite veramente pesanti. Semplicemente Berardi si è riposato, perché lo si era visto esaurito, lo si era visto stanco contro l'Austria, si è riposato, è entrato benissimo. È stato quello che nel secondo tempo supplementare ha creato i pericoli e ha avuto questa palla del 2-0 che non è riuscita a concretizzare. Poi il gol che abbiamo subito poteva essere veramente un pugno nello stomaco. E lì, ripeto, si è vista forse l'unica sbavatura difensiva dei due centrali, dei nostri centulioni, in tutto il torneo. Perché effettivamente Chiellini si fa un po' assorbire. Poi la Spagna fa un grande gol, la rifinitura di Dani Olmo è una rifinitura veramente vellutata. E l'attacco di Morata è un manifesto del suo calcio, è un manifesto di quello che è l'80% del suo calcio, ed è l'80% di un attaccante di alto livello. Si va a prendere il pallone sulla tre quarti, Morata che è entrato dalla panchina, inizialmente giocando anche un po' decentrato, ma subito imponendo la propria figura martellante. Si va a prendere il pallone nella zona lasciata libera del centrocampo, attacca verticalmente senza paura, con il petto in fuori della difesa avversaria, fa 1-2 e poi finisce anche con rabbia. Finisce con la voglia di dimostrare di quello che è stato discusso, anche con modalità enormemente censurabili, e che invece si toglie la soddisfazione di scacciare i fantasmi, di piazzare un altro gol. Il problema è che appunto quello è l'80% del suo calcio. Perché poi, dopo tempi supplementari in cui fondamentalmente non abbiamo avuto paura, abbiamo sostenuto e siamo usciti addirittura alla distanza, sono arrivati questi calci di rigore che potevano portarci anche brutti ricordi. Perché poi la tirannia della Spagna sul calcio internazionale con due europei e un mondiale vinti consecutivamente è iniziata proprio da una serie di calci di rigore contro l'Italia. È una storia che in Spagna è nota, come quei rigori contro l'Italia di Donadoni nel 2008 siano stati la vera presa di coscienza di avere una nazionale vincente, di poter superare dei tabù. E questi rigori potevano essere veramente la dimostrazione di non ancora raggiunta maturità totale per l'Italia. Perché ci arrivavi stanco, ci arrivavi dopo una partita faticosa, come vi ho detto più volte, insomma con la sensazione di avere avuto di fronte una squadra più forte. Ha sbagliato il primo con Locatelli, lo ha parato bene, Munai Simon, lo ha tirato con un filo di bracino, dimostrando fondamentalmente di essere umano, il centrocampista del Sassuolo, perché quello che aveva fatto fin qui non era una cosa normale, non era una cosa umana per un giocatore della sua età e con il suo percorso. Locatelli deve ancora affacciarsi veramente al grande calcio e continua a far vedere di avere tutte le carte in regola per poterlo fare. Molto importante che Dani Olmo abbia sbagliato subito. Però poi stavano segnando, hanno tirato tutti bene, hanno tirato bene Bernardeschi, altro giocatore sul quale a volte si spende un filo troppo di ironia, è entrato e ha provato quel colpo di tacco che ancora una volta è stata una situazione un po' forzata, però poi il rigore l'ha tirato freddo, l'ha tirato preciso, incrociato, è stato un'incrocio dei pali, ha schienato Bonucci, ha schienato Belotti, una stangata, una sassata che veramente ha rotto il ghiaccio in quella serie di rigori dove hanno sbagliato i primi due e poi ha sbagliato Morata. L'ha parato Donnarumma, l'ha parato Donnarumma e si vede chiaramente nella riproposizione. Donnarumma studia guardando Morata che parte, capisce dalla postura del centravanti della Juventus e della Spagna che avrebbe aperto il piatto, parte quella frazione di secondo prima e gliela va a prendere. Però lì è veramente, permettetemi il termine un po' forte, la tragedia sportiva di Morata che ancora una volta arriva lì, ancora una volta dimostra, ripeto che l'80% del suo calcio è roba importante, è roba preziosa, perché secondo me fisicamente, tecnicamente, tatticamente, sul piano dell'atteggiamento, dell'impegno in partita a Morata non manca nulla per essere un centravanti di riferimento. Non so se sia una maledizione, non so se sia una carenza caratteriale, però poi a Morata manca quello, manca quello. Ha sbagliato il calcio di rigore e allora arrivo a finire il mio racconto, commento, giudizio, percorso di questa serata che veramente ci ha messo di fronte un'estate intera, tre anni interi, con il rigore decisivo e con la figura della partita. È stato eletto MVP della gara a Chiesa e lo merita per la dimostrazione data, però poi il rigore decisivo l'ha segnato Giorginio. E ha segnato un rigore da Giorginio, con quel saltello di tranquillità, di classe infinita, ha inginocchiato un Aysimon e lo ha spiazzato. Rigore perfetto alla Giorginio. Ed è, secondo me, emblematico e meritato che il gol decisivo l'abbia segnato lui. Perché Giorginio è evidentemente il top player principale della nostra nazionale. Non a caso è il regista, l'architetto di gioco stabile e comprovato e consacrato anche del Chelsea campione d'Europa a livello di club. Giorginio si è ritrovato, proprio da fotografia della sua squadra, a giocare davvero la partita più dura del suo europeo. Perché per la prima volta non l'ha diretta lui, l'ha diretta quello che aveva davanti, l'ha diretta il maestro Busquets, l'ha gestita Pedri. Lui ha dovuto anche annaspare un po' in questa partita. Credo che per lui, personalmente e singolarmente, sia stato veramente lo scenario potenzialmente più spiazzante possibile. Ma si è calato perfettamente. E se riavvolgete il nastro anche all'azione del nostro gol, Donnarumma prende il pallone, lo gioca quasi a memoria immediatamente su Giorginio e lui, con una delle sue giocate così semplici, così naturali, così basiche, ma così determinanti, offre il pallone e il signe. Poi c'è il lavoro del tridente, di cui vi parlavo prima. E questo è stato un europeo in cui, come vi dicevo, in modo lampante Giorginio è emerso come il nostro giocatore principale. Abbiamo parlato dei suoi dati, abbiamo parlato della sua importanza in impostazioni, in recupero, anche a livello proprio verbale, a livello di guida in campo di questa nazionale. Però gli mancava di essere il giocatore decisivo con questo calcio di rigore. Perché? Perché in questo percorso che adesso continuiamo a rivedere, preparandoci all'appuntamento culminante, inizialmente c'era stato Berardi, c'erano stati anche i gol di Immobile nelle prime partite, c'era stato Locatelli nella fase a Gironi, c'era stato Pessina contro il Galles e contro l'Austria, c'era stato Chiesa, c'è stato Barella, c'è stato Insigne contro il Belgio, ci sono state le parate di Donnarumma. Giorginio c'è sempre stato. E nella partita più grande, nella partita più importante, il sigillo definitivo lo ha messo lui. Adesso vedremo, vedremo come andrà la finale, vedremo chi ci ritroveremo contro, se sarà appunto la favola Danimarca, se sarà la perfide terribile Albione. Stasera c'è una semifinale che io credo sarà altrettanto frizzante, altrettanto scoppiettante. Non mi immagino una passeggiata dell'Inghilterra, anche se poi il potenziale degli inglesi è veramente un potenziale grande e la Danimarca potrebbe pagare tutto il dispendio energetico, fisico e soprattutto mentale, sentimentale fatto in queste settimane. Però ci siamo arrivati, siamo arrivati fin qui, siamo arrivati a questa finale e ci arriviamo con la nostra pienezza, con la nostra soddisfazione, con tutti i passi avanti fatti, con tutte le cose dimostrate, con un gruppo che alla fine in un momento di così grande estasi irrazionale comunque ha avuto il pensiero a Spinazzola, al ventiseiesimo, a quello che non c'è in queste finali eppure c'è con tutti. È meraviglioso, è meraviglioso veramente vedere questa squadra che ci ha convinto con i risultati e ci ha unito con la propria essenza. Andiamo a giocarci questa finale, andiamo a vivere fino in fondo questa avventura, consapevoli davvero di quello che deve essere il messaggio di questo europeo. L'Italia è tornata, è tornata ad essere una grande squadra ed è una squadra grande come non c'era veramente da tanto tempo. C'è un mondiale fra un anno e mezzo, c'è una finale fra qualche giorno dell'europeo. La vogliamo questa Coppa, a questo punto dobbiamo andare a prendercela, ma il nostro successo è già sancito, è già sancito anche da questa ennesima dimostrazione data con una Spagna che, ripeto, se ne esce con gli occhi un po' rossi, se ne esce avendo demeritato relativamente. Per me quella contro l'Italia è stata una delle migliori partite della Spagna in questo europeo. È chiaro dove sta il margine di crescita della nazionale di Luis Enrique. Sta nel dare alla propria difesa della personalità che non c'è più dopo l'addio di Piqué e dopo la rinuncia a Sergio Ramos, ma i giocatori che ci sono sono giocatori potenzialmente di grande personalità e di grande valore. Credo che la Spagna questo lotterà anche in breve tempo e sta nel trovare una chiave realizzativa davanti, perché per il gioco proposto questa è una squadra che deve segnare di più. Saranno problemi loro e saranno problemi del prossimo futuro, perché la Spagna si ferma e l'Italia va avanti. Così come va avanti questo europeo, domani parleremo sicuramente della partita di stasera fra Inghilterra e Danimarca. Abbiamo anche la finale della Coppa America e anche lì ci sono cose da dire, c'è un fuoco decisamente alto che arde. Abbiamo diversi appuntamenti nel corso di questa settimana, per cui vi auguro una grandissima giornata con gli occhi sognanti, dicendovi che ci rivediamo prestissimo qui sul nostro canale per parlare, come sempre, dei grandi calci.